Il dirigente Antonio Prete è stato licenziato dal comune di Rieti. Una decisione arrivata lunedì dopo un procedimento disciplinare avviato nel maggio scorso sulla base della relazione del nucleo di valutazione che ha trovato conclusione con il parere dei garanti che a maggioranza hanno dato l'occhè al licenziamento. Il provvedimento colpisce pesantemente Prete ma sembra che non dipenda da procedimenti penali ma da inadempimenti legali al suo ruolo di dirigente del settore finanziario a causa di gravi irregolarità contabili relative agli anni 2010-2012. Con Prete se ne va il secondo dirigente dell'Aggiunta Emili dopo Enrico Aragona. Tecnicamente Prete sarebbe stato licenziato per il mancato raggiungimento degli obiettivi relativi agli anni 2010-2012, una motivazione che i legali del dirigente hanno considerato una forzatura, tanto da ricorrere in appello. La vicenda è destinata a non concludersi qui perché Prete si considera vittima di un'ingiustizia dell'Aggiunta Petrangeli e avrebbe dato mandato agli avvocati per chiedere il risarcimento danni.